bentornati su turnis peschiera oggi un altro appuntamento con l'approfondimento culturale del mercoledì ogni mercoledì usciamo con una curiosità legata alla storia legata alla costruzione alla vita di peschiera del garda e oggi siamo qua siamo sul bastione tonion un bastione che come vedete ha una struttura molto possente vedete il saliente che sale proprio qua saliente in marmo marmo rosso verona che sale fino alla sommità e proprio nella sommità vedete c'è un'edicola questa edicola porta al suo interno l'effigie del leone marciano ovvero leone di san marco simbolo della serenissima repubblica che proprio qui nel xvi secolo costruì questa fortezza pentagonale che come sapete ormai per tutti voi che ci seguite è una fortezza diventata patrimonio mondiale dell'umanità giusto a luglio del 2017 quindi oggi approfondiamo questo bastione con qualche curiosità più che altro legata a questo libro che ormai sta diventando inseparabile perché veramente qui si racconta con una rassegna fotografica veramente d'eccellenza la storia di peschiera noi possiamo qua siamo alla demolizione di questo bastione che se noi avessimo potuto fare un salto indietro nel tempo di oltre un secolo fa l'avremmo visto continuare proprio davanti a me fino contro la bastione querini che abbiamo visto la volta scorsa l'avremmo visto continuare l'acqua e faceva proprio una chiusura del porto di peschiera del garda fu demolita questa parte anche per permettere questa viabilità che adesso vedete una volta non c'era perché era completamente chiuso da questa fortezza pentagonale quindi all'inizio del novecento venne demolita questi sono delle immagini della demolizione dello scavo delle profondità di questo bastione come vedete la parte scavata gli operai al lavoro tutte le parti lapidia di marmo che vennero demolite e quindi cosa rimase rimase questa cortina del bastionetto gnome proprio questa che vediamo e poi proseguo con tutto il resto della cinta muraria e proprio qui negli anni 40 50 ci fu un restauro importante e anche questa foto è una bellissima testimonianza chiaramente adesso guardando queste impalcature del tempo ci viene anche da ridere nel senso che qua la sicurezza sul lavoro era lontana ancora anni luce però queste impalcature erano proprio state costruite perché perché si cominciò a mettere mano a un distaccamento nella parte della sommità delle mura e cominciava a verificarsi quindi ci fu questo intervento che ebbe il pregio comunque di mantenere questa struttura consolidata solida qua abbiamo anche delle bellissime particolari aggiuntivi di questi interventi di ristauro vediamo proprio come sulla sommità dentro questo cantiere vedete proprio la parte in legno del cantiere la roccia che sta uscendo qua addirittura si vede il rigonfiamento della cortina il cotto quindi il mattone cominciava ad uscire perché perché la spinta delle delle piante del terrapieno e soprattutto con quella mancanza di manutenzione che è cominciata ad avvenire quando questa non fu più una fortezza militare cominciò anche a decadere quella che era la funzione principale quindi anche il mantenimento la manutenzione necessaria venne meno e quindi nei decenni nei secoli successivi il decadimento della fortezza militare comincia ad accusare qualche problema ma fortunatamente si intervenne allora come si sta intervenendo anche oggi e quindi siamo qui davanti a questa cortina da qui passano le acque del lago di garda proprio entrano direttamente dal porto centrale di peschiera del garda che è esattamente in questa direzione questo è il porto centrale le acque entrano in questa direzione poi possono entrare subito sulla destra in questo canale che viene chiamato la fossetta continuare dritto tra questi due bastioni cioè tra il tonione e guerini entrando nel canale di mezzo oppure sull'estrema sinistra quindi nella direzione verso verona le acque del lago possono prendere o il canale della navigarda oppure il canale mercantile esattamente il canale che bagna il lungolago garibaldi di peschiera del garda e questi canali giungendo tutti insieme al termine nella parte sud delle mura formano che cosa l'inizio dei fiumi mincio e da qui le acque decorrono e vanno fino a mantua dal mantua la mantua dentro poi dal po fino al mare adriatico quindi cosa c'è veramente di particolare da ricordare questo bastione intanto questa fantastica effigie marciana che veramente è rimasta come la lasciò napoleone come la lasciò all'esercito francese dopo il trattato di campoformio del 1797 che sancì di fatto la fine della serenissima repubblica di venezia e di conseguenza cosa successe ci fu un editto che prevedeva che tutti i leoni marciano simboli proprio di questa potenza marittima e terrestre che era la serenissima repubblica venissero distrutti e quindi fondamentalmente vennero scalpellati o completamente rimossi addirittura triturati distrutti ridotti in polvere come quello di porta verona di cui non c'è rimasta nemmeno traccia però in questo caso sul sulla sommità del bastionetto non c'è rimasta una traccia infatti riusciamo a vedere in modo grossolano la testa del leone che sta verso sinistra la parte a lato che sta in altra in alto a destra quindi si vede proprio la parte dell'ala e leggermente il corpo le zampe posteriori sulla destra e quindi insomma abbiamo infatti si riesce a vedere così sicuramente meglio proprio la parte in alto a sinistra come detto la testa in alto a destra la parte alata il corpo ancora che si riesce a intuire proprio da questo proprio da queste figie grazie appunto anche a franco lanfredi che il fotografo che cura turin peschiera con un drone abbiamo siamo riusciti a fotografare in modo veramente molto ravvicinato questo leone e ancora si vedono i segni degli scalpelli che entravano proprio per distruggere queste figie si vede proprio la linea scalpellata che ha distrutto il il marmo ma questo ci ha permesso cosa di capire che marmo ed è un bianco verona biancone di verona viene chiamato che è una vena proprio che si trova nelle zone qua della valpulicella e da cui poi abbiamo siamo potuti risalire al diciamo alla alla qualità del marmo per andare ad acquisirne un identico con cui poi abbiamo ricostruito di figia marciana che adesso si trova a porto verona quindi quei medesimi marmi che si usavano sia nel 500 che abbiamo utilizzato 500 anni dopo per ricostruire le figie marciane ecco qui siamo proprio sopra un contro bastione cosa vuol dire è una parte come fosse uno scudo a protezione della fortezza che ha suvolto uno scudo nella città ed è molto elevato perché perché doveva proteggere tutta questa cinta muraria dai canne nonneggiamenti che potevano arrivare dalla zona che sta davanti a me quindi dalla parte diciamo che si estende nel lago verso nord e verso diciamo ovest quindi verso briscia è la zona più diciamo soggetta a quelle che erano le possibili attacchi che poteva subire la serenissima quindi dallo stato da terra che veniva verso peschiera cito fatto stai l'unione della sorte anche lo stesso dante molto prima della protezione della fortezza infatti siamo nel suo settecentesimo anniversario diceva proprio che peschiera un bello fortanese che sedeva proprio qui per fronteggiare chi proprio bresciani e bergamaschi quindi eravamo nel mille nel quattordicesimo secolo nel sedicesimo secolo ancora le più grosse offese comunque più grossi pericoli potono venire proprio dalla stessa direzione che vi ho citato poco fa quindi andiamo a concludere questo piccolo approfondimento vi consiglio se vorrete venire a trovarci e fare un giro peschiera del garda proprio qui davanti a me ci sono i parcheggi più capienti di peschiera quindi la zona di porta brescia e il campo sportivo dove abbiamo parcheggi con centinaia di posti anti gratuiti a pochi minuti due o tre minuti a piedi dal centro storico di peschiera quindi venendo a parcheggiare qua siete già praticamente davanti alla fortezza vi troverete davanti porta brescia bellissima porta monumentale d'accesso alla fortezza e sulla vostra sinistra troverete proprio il punto in cui siamo da qui si può fare una passeggiata veramente piacevole comoda affacciarsi in fondo dove troverete un bellissimo bel vedere e sulla vostra sinistra potete ammirare il lago di garda una giornata come oggi una giornata come oggi proprio in fondo una giornata come oggi siamo ottobre ma c'è caldo l'aria terza veramente un panorama fantastico beh sicuramente vale la pena ecco di fare due passi a peschiera del garda perché soprattutto fuori stagione vi assicura con la tranquillità e con la possibilità di godere proprio a piena della bellezza e della maestrosità di questi muri che potete tranquillamente visitare a piedi oppure con una vista guidata in barca che parte nei weekend dal canale di mezzo nella piazzetta che si chiama piazzetta san marco adesso vi lascio con questo piccolo tour potete vedere la fine di questa passeggiata sul conto bastione tonion e vi lascio con il lago di garda ci vediamo il prossimo mercoledì ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti